Il mio padrone è il potente Lucifero, non posso obbedirti senza il suo permesso, prendo ordini solo da Lui. No, sono qui per mia volontà. Sì, ma si è trattato di un caso. Se noi demoni sentiamo qualcuno che bestemmia o storpia il nome di Dio e rinnega le scritture Cristo Salvatore, tu capisci che quell'anima ci interessa, ma non ci scomodiamo se non riteniamo che quell'anima stia davvero rischiando di essere dannata. Ti do un consiglione, non ci vuole molto per essere un mago, si fa presto presto, rinnega con la forza il padre, il figlio è lo spirito santo e adora il diavolo con tutto te stesso. Ma ora dobbiamo formalizzare mio caro, c'è bisogno, c'è bisogno di scrivergli il contratto col tuo sangue, Lucifero vuole questa garanzia, se non accetti non se ne fa nulla e che ti devo dire Faustino, se non se ne fa nulla, se non se ne fa nulla, non se ne fa nulla, me ne torno negli inferi.